Ma dunque, stavamo dicendo prima e mi pare che c'è una chiarissima inclinazione al tatticismo, che questi due schieramenti sono in realtà molto artificiosi e quindi la loro contrapposizione nasconde in realtà posizioni molto più ambigue e contraddittorie che a mio avviso verranno fuori. C'è un altro elemento, Formica come al solito è sempre molto bravo e lucido e pittoresco quando descrive le cose, però io credo ci sia un elemento, che questo Parlamento non è soltanto diviso ma è talmente sconnesso rispetto alla realtà elettorale del Paese, pensa al Movimento 5 Stelle che nei sondaggi ha meno della metà dei voti che ha preso nel 2018, che questo fa capire che in realtà qualunque capo dello Stato in realtà si troverà di fronte a un Parlamento che ha una prima esigenza, il primo vivere. Non vorrà andare alle elezioni. Quindi questo terrorismo che si fa sulle elezioni anticipate, secondo me è fatto più per bloccare qualche candidatura che perché risponda alla realtà. E quindi io credo che in realtà qualunque capo dello Stato venga eletto sappia che questo è un Parlamento e vuole arrivare al 2023. Quindi queste schede bianche sono soltanto il segno dell'impotenza dei partiti, non sono qualcosa di particolarmente furbo. E vorrei dire anche un'altra cosa. Siccome parliamo tutti a proposito e a sproposito di presidenzialismo, cosa c'è stato di più presidenzialista del governo Draghi voluto da Sergio Mattarella? E non è stato un gesto di presidenzialismo, se vogliamo usare questa espressione. È stato un gesto che ha preso atto dell'incapacità dei partiti per settimane di riuscire a costituire una maggioranza. Non a caso nessuno ha fiatato quando Mattarella ha preso atto del fallimento del secondo governo Conte, di un tentativo sinceramente imbarazzante di trovare voti al Senato per racimolare in qualche modo una maggioranza e poi si è fatto un governo che ha una grande autorevolezza. Siamo sicuri che questo governo resista quando non c'è più Mattarella e quando verosimilmente non c'è più questa maggioranza? Questo è un punto tra l'altro. Adesso coinvolgo anche